Il polistionico non ha questa tensione, il polistionico non ha questa tensione, il polistionico non ha questa tensione, lui non compiace, lui ha bisogno di fuoco. Esce polistionico e dico, dico, quello al colore, lo schizzone, tutto sommato, deve avere un bufone a cena senza doverlo pagare. Si lascia corrompere, può succedere anche quello, se deve, si lascia corrompere, quindi inizia la relazione. Ma quanto dura? Quando lui si risveglia e guarda l'altra persona, si accoggia un fuoco, cioè un bagnaccio, che non esiste con la persona, che non c'è nessuna struttura dietro, che è fragile. E allora comincia a tagliargli tutte le sue eforia, a toglierli, insomma, diventa il pubblico peggiore del pianeta. E un bravo istionico, dopo che non è troppo depresso, mi dice, fa le paese e se ne va, perché ha bisogno di una mafia. E' un bagnaccio più sicuri, di solito se ne fanno un certo numero, non lo vanno da avere, l'istionico ha bisogno di un pubblico, e quindi se ne uno non c'è, beh, ha il suo ragazzo, non c'è, non c'è. Ci sono più un po', ma il peggiore, vedete, tocchi proprio questo è quello, perché loro due rischiano forti. E' un'edizione.